Secondo posto, top collaborazioni per Siracusa, abbiamo la dottoressa Francesca Cafra. Ma com'è riuscire a gestire tutti questi agenti immobiliari? No, devo dire che la collaborazione su Siracusa è veramente interessante. I miei colleghi sono molto collaborativi, infatti questo secondo posto lo dedico a loro proprio perché mi sono trovata abbastanza bene. Collaborare per me è efficace. Effettivamente quando la collaborazione è in sintonia è veramente fantastico. Meraviglioso, grazie ancora Fra.